Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Meneu, operativi come sempre siamo tornati con questo nuovo intervento video ovviamente dedicato all'ufficialità di Claudio Ranieri come nuovo allenatore del Cagliari dunque è arrivata proprio in serata questa ufficialità dopo alcuni giorni di trattativa estenuante che hanno visto protagonisti appunto Giulini, Ranieri ma non solo anche Bonato e Catte per quanto riguarda la società del Cagliari Calcio, insomma in questi giorni alla fine è arrivato appunto il lieto fine se vogliamo ovvero Claudio Ranieri che si lega al Cagliari fino al 2025, quindi un contratto da due anni e mezzo al momento non ci sono cifre e bonus e quant'altro, probabilmente verranno fuori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ciò che conta è che comunque Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari e lo sarà sostanzialmente da anno nuovo quindi per la partita di domenica contro il Cosenza si siederà Roberto Muzzi che ha preparato sostanzialmente la sfida di domenica in questi giorni, poi arriverà appunto Claudio Ranieri allora sapete perfettamente che cosa penso rispetto a Ranieri, rispetto al fatto che reputo la scelta di Ranieri la migliore in assoluto considerando il momento in cui ci troviamo a livello di classifica, a livello di morale quindi credo che Ranieri sia la persona giusta come motivatore per rimettere i giocatori ognuno nel suo ruolo magari con un classico 4-4-2, quindi questa è la mia opinione e quindi va bene però attenzione, attenzione perché Giulini chiaramente non è sprovveduto e da questo punto di vista è chiaro che è andato a selezionare la figura da tutti noi richiesta, perché comunque a livello di piazza è chiaro che stavamo chiedendo a gran voce Claudio Ranieri, nel momento in cui abbiamo capito che effettivamente Giulini stava trattando con lui, beh insomma siamo andati un po' tutti al settimo cielo ok? Per quello naturalmente che Ranieri ha fatto a Cagliari ai tempi però, patichieri amicizia lunga dicevo, non può essere soltanto la figura di Ranieri a risolvere i problemi e quindi attenzione Tommaso Giulini, non pensare che tu abbia fatto questa scelta giusto per darci il contentino ed è finita lì, attenzione, non va così, perché ormai le possibilità che hai a Cagliari sono veramente ridotte al minimo ridotte veramente all'osso e questa secondo me è una delle tue ultime chance per cui Claudio Ranieri, persona assolutamente seria, allenatore secondo me ottimale per il Cagliari in questo momento ma va assolutamente assecondato, per cui spero che in questi giorni di trattativa dove sostanzialmente si parlava di un tiro in molla appunto fra Giulini e chi per lui e l'entourage del nuovo tecnico del Cagliari, mi auguro che al di là dell'aspetto economico, lo stipendio e quant'altro si siano messe le basi per far sì che Ranieri possa realmente essere accontentato me lo auguro davvero, me lo auguro con tutto me stesso mi auguro veramente che da questo punto di vista si siano fatte delle richieste specifiche da parte di Ranieri nel mantenimento di alcuni giocatori, nell'acquisto di altri giocatori insomma bisogna finalmente seguire le direttive del tecnico e mi auguro che stavolta appunto succeda ma succeda davvero perché se no veramente siamo inguaiati per cui io auguro un in bocca al lupo a Ranieri gli auguro un buon lavoro chiaramente spero che possa essere lui a risolverci perché come ho già detto a più riprese io ti fò il Cagliari a prescindere da chi è il presidente e quant'altro io ti fò il Cagliari quindi mi auguro che il Cagliari si possa riprendere Ranieri credo sia la persona giusta ma va ovviamente assecondato e va sostenuto e sopportato soprattutto nelle scelte perché se no è assolutamente inutile averlo preso queste sono le mie considerazioni non aggiungo altro fatemi sapere le vostre commentando qui sotto un bel pollice in su, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo domenica sicuramente per la live e per il post partita di Cagliari Cosenza un saluto a tutti ovviamente e forza a Castello sempre ciao ciao